K44 risponde, un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto. Allora siamo a LetExpo, alla fiera di Verona e stiamo affrontando in particolare il tema dell'intermodalità ma coniugata tra la strada e il mare. È una modalità che in Italia ha avuto un forte sviluppo nel corso degli anni anche attraverso degli incentivi che sono stati concessi anche a livello statale e dei quali anche l'Unione Europea ha fatto una sorta di best practice che ha anche esportato in altri paesi. Volevo fare una ricognizione dello stato dell'arte al 2023 e capire soprattutto le prospettive che questo tipo di intermodalità potrà ancora generare. Il nostro interlocutore è il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri. Il porto di Livorno in particolare, che numeri sviluppa e che numeri ha sviluppato negli ultimi anni rispetto a questo tipo di traffico Rorò? Il porto di Livorno ha questo tipo di traffico, quello di Rorò come uno dei propri core business, sono circa 20 milioni di tonnellate di merce che transita attraverso questo mezzo e anche i numeri sono molto rilevanti, sono circa mezzo milione i camion che transitano dal porto di Livorno in entrata e in uscita a cui si aggiungono anche circa 150 mila camion degli altri porti del sistema. Comunque Livorno fa la parte del Leone in Italia e anche nel Mediterraneo. Vogliamo ricordare le principali linee di traffico, verso quali destinazioni puntano? Abbiamo certamente le grandi isole italiane, che sono appunto la Sardegna e la Sicilia, con più porti che vengono toccati. C'è anche la Corsica e poi una meta molto importante è anche la Spagna con Barcellona e Valencia. Naturalmente noi guardiamo in prospettiva anche ad altre destinazioni come potenziale sviluppo, e poi soprattutto il Nord Africa, sul quale sono iniziate, anzi storicamente c'è una linea con una compagnia di navigazione per la Tunisia che attualmente sta cercando di sviluppare anche un traffico passeggeri. Quindi è un settore strategico per il quale abbiamo recentemente riorganizzato le banchine portuali per consentire che anche le navi più grandi, come ad esempio quelle di Grimaldi o anche di Mobi, che stanno per arrivare, possano esercitare. Quando il progetto, diciamo, Piattaforma Europa troverà realizzazione, questo tipo di attività, questo tipo di business, che tipo di incremento, che tipo di ulteriore sviluppo potrà avere? Darsena Europa è un grande progetto di sviluppo del porto di Livorno e di riorganizzazione dei traffici contenitori, ma anche appunto i traffici rorro, perché la Darsena contenitori è sicuramente la prima realizzazione, ma mentre lavoriamo per questo entro il 2026, i primi mesi del 2027, creeremo le condizioni anche per destinare altri 100 ettari e 9 accosti ai traghetti e alle navi rorro, rorro Pax. Quindi noi guardiamo proprio a questa potenzialità di sviluppo del nostro porto e non è soltanto l'infrastruttura materiale a cui guardiamo, guardiamo anche ai servizi, per esempio quelli digitali che consentono di rendere più efficienti i collegamenti e far sapere con infrastrutture e possibilità di comunicazione diretta con i mezzi, anche tracciabili, la possibilità di avere non solo prenotazione, ma anche di sapere a che punto sono le operazioni. Quindi da questo punto di vista anche la relazione con l'interporto di Guasticcio è molto importante. Stiamo predisponendo lì delle aree di sosta per i camionisti, ma che sono anche aree di servizio e anche possibilità in prospettiva, questo è un nostro ulteriore progetto, per creare le condizioni affinché i semirimorchi e i camion possano essere caricati su treno e quindi anche questo è un obiettivo che va verso una maggiore integrazione logistica da un'affermazione piena dell'intermobilità che vede appunto tre tipi di mezzi. Ci puoi ricordare che cosa il PNRR ha destinato alla vostra autorità portuale, come verranno spesi questi soldi e in funzione del nostro discorso che tipo di ritorno ulteriore potrebbero avere? Siamo stati piuttosto attivi sul PNRR e anche su altri canali finanziari, ma la parte del Leone direi che l'ha fatta la parte energetica. Il porto di Livorno ha 44 milioni per il cold ironing, cioè l'elettrificazione delle banchine e altri 32 milioni i porti di Piombino e di Portoferraio. È chiaro che la portualità si deve adeguare alle nuove normative e soprattutto a quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione. Quindi oltre ad avere l'elettrificazione delle banchine, anche RORRO, abbiamo anche previsto con altri 33 milioni che l'autorità sia giudicata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per produrre energia da fonti rinnovabili e questo è un'azione che cercheremo di intensificare perché abbiamo previsto un consumo degli usi portuali che con questi primi interventi serviranno a renderci autonomi sulle strutture pubbliche ma abbiamo bisogno anche di creare le condizioni perché tutti gli operatori portuali possano magari con una comunità energetica avere questa possibilità. Ci sono anche altri progetti che sono stati finanziati, ad esempio dal Ministero dell'Agricoltura, nel sempre PNRR e qui abbiamo messo in relazione un progetto del valore di 14 milioni che ci è stato finanziato per creare le condizioni per efficientare quelle banchine, rendere migliori anche dal punto di vista ambientale, non solo logistico, quelle banchine destinate a traffici agroalimentari. Da mettere in relazione anche qui con tutti quei miglioramenti digitali che servono a creare davvero una logistica perfettamente integrata. Un altro progetto che si chiama Cold Chain Liborno, si riferisce a un miglioramento delle infrastrutture portuali che riguardano il pescato e un magazzino nell'area dell'interporto di Guasticce che crea le condizioni per avere una catena del freddo quantitativamente e qualitativamente più qualificata, quindi un nuovo magazzino con nuova concezione e dare la possibilità di incremento anche di questi traffici. Allora al momento attuale il porto di Livorno è anche diciamo protagonista di una sorta di trimodalità, cioè nel senso che spesso dal porto partono anche dei treni container. A questa attività un domani si potrà anche affiancare invece un trasporto ferroviario di semirimorchi laddove saranno diciamo rimosse quegli ostacoli che attualmente esistono lungo la linea tra Bologna e Firenze. A quel punto, quando questi ostacoli non ci saranno più, quali potrebbero essere gli sviluppi, le progettualità ulteriori per il vostro porto? Dunque noi abbiamo un piano del ferro che riguarda i miglioramenti sulle banchine portuali e questo è una progettualità che sta per essere approvata e che avanzeremo anche qui sui progetti PNRR o comunque sui fondi europei laddove ci saranno bandi adeguati a questi obiettivi. Nel frattempo abbiamo in corso da parte di RFI un progetto che riguarda lo scavalco ferroviario della linea costiera presso la stazione di Calambrone per collegare direttamente il porto all'Interporto, un progetto finanziato dalla regione che è in esecuzione e che si concluderà tra circa due anni. Quindi questo eviterà di andare alla stazione di Pisa e sarà molto più efficiente. dall'Interporto alla linea più interna che comunque è una linea ad alta capacità ferroviaria che viene da Bada e va a Pisa attraverso quelle Salvetti è stato finanziato un altro progetto di circa 340 milioni di euro. Ecco che le nostre linee, l'accessibilità ferroviaria locale sarà come dire molto competitiva ed efficiente. Nel frattempo stanno andando avanti i lavori che riguardano le gallerie fra Firenze e Bologna e quindi anche qui entro il 2026-27 ecco queste date fatidiche dove però il porto di Livorno nelle sue caratteristiche di accessibilità marittima, di spazi attraverso darsi in Europa e la riorganizzazione, anche per i RORRO e l'accessibilità terrestre e ferroviaria sarà molto più efficiente. Insieme a questo anche servizi sempre più importanti e qualificati da un lato digitale e dall'altro fisici che servono a rendere meno disagiato anche il lavoro di queste persone che sono gli autisti e che peraltro scarseggiano e per il quale giustamente si incominciano a fare delle politiche ad esempio sulle patenti da parte del governo. Quindi questo è un aspetto molto importante che va poi di pari passo con un'ultima cosa che invece è la viabilità di accesso al porto di Livorno terrestre. Abbiamo un progetto di viabilità di cintura che tende a separare più nettamente i traffici diretti al porto da quelli diretti alla città. Ecco quindi come dire da un lato attuazione che è una parola come dire sta a me molto cara dall'altra anche progettazione in modo tale che ci sia un continuo miglioramento.